buongiorno a tutti e buon giovedì a tutti giustamente ovviamente modestamente sempre alla doc con l'uomo ma dai oggi mi sono voluto vestire così giusto per cambiare e giustamente ovviamente modestamente sempre attenzione oggi facciamo un bel pranzo doc perché quando le cose sono la doc niente non saranno mai al doc e allora andiamo inizio alle danze o con un crudo o con un cotto diciamo anche prima con un cotto oggi abbiamo fatto guardate hamburger di salmone ma dai condito con formaggio per semolo e un po di cipolla ma mai e sale giustamente invece poi ho fatto bollito appena bollito calciofi sotto in acqua scusatemi e finocchetti bolliti poi ovviamente mi sono messo da parte un po di acqua e scusatemi perché c'è anche l'altra acqua perché questa qui aiuta a pulire tutto lo stomaco il feto eccetera eccetera ma dai giustamente il mio calice infernale il mio calice di alle tenebre perché giustamente da quando voi sapete che questo calice stanotte non lo so neanche mamma mia com'è bello e in più in più in più mi arriva un altro calice perché questo lo utilizzo con un cotto e mangiato il lato che mi arriva provabile che mi arriva stasera o a pomeriggio perché ovviamente il grandissimo toni alla doc grandissimo toni mi manda oggi un altro calice mi ha detto alla doc ma dai e quello lo uso quando faccio crudo e mangiato sangue chiama sangue e niente andiamo avanti con le danze giustamente allora ci mettiamo olio di aglio perché ovviamente il sale non li aumento perché sono già salati io li bollisco nell'acqua e sale alla doc la nostra bottiglia di lammus come trovano sempre portata in mano assolutamente e andiamo inizio alle danze giustamente doble scello all'addocco al romolo finocchio bollito e calciofo bollito ma dai cotto e mangiato ho sbagliato quanta cosa finocchio cotto e mangiato un minuto un minuto un seconda assolutamente ci siamo dimenticato di mettere l'aceto tutte le cacciofe almeno quello almeno lo metto ma dai ma i finocchi sono capolavoro ma dai mi sono vestito così all'addocco guardate che manca soltanto ora il cavallo ma che oggi c'è una bellissima giornata alla doc ma dai a me la verdura mi sono piaciuta sempre e la mangerò sempre accompagnata sia con la carne ecco il pesce ma dai il mio calice della tenebra giustamente acqua di calciofi all'addocco ma dai ma dai ma dai giustamente quando si beve si pulisce sempre il calice delle tenebre eccolo qui madonna me mi raccomando a tutti i miei discepoli delle tenebre chi non è ancora iscritto sul canale youtube all'addocco romolo iscrivetevi mettetevi mi piace perché giustamente se sto crescendo grazie a voi le visualizzazioni iscritti condividete sempre il video e chi non l'è iscritto ancora sulla nuova pagina facebook all'addocco romolo iscritto ora andiamo inizio alle danze perché quando si va inizio alle danze e alla e gira tutto il mondo alla danza come si mangia qui giustamente ci mettiamo un pizzico di olio di aglio e andiamo inizio alle danze sempre all'addocco romolo crudo e mangiato hamburger di salmone fresco bello genuino e amabile come voi ma dai crudo e mangiato e mangiato e mangiato Ma oggi per me è Natale, ma dai! Ma dai! Eh! Voglio un dolce per lo mio, ma! Ma dai! Ma dai! Alla via! Ma dai! Io vi amo tantissimo! Vi amo! Vi amo! Sangue chiama sangue! Guardate il colore del sangue! Mamma mia! Mamma mia! Come sei bello! Come sei bello! Come sei bello! Vino vinello! Come sei bello! C'è una frase che mi ha insegnato un carissimo amico Vino vinello quanto sei bello! Ma senti da questa canna sarai la mia condanna! Ma dai! Alla gioca! Alla gioca! Un carico! C'è una frase che non le tre bottiglie stanno! Non lo fate da qui! E ti sei preso! Vanno le bottiglie! Sì Claudio! E come la bottiglia viene? Non lo so! Vanno le bottiglie! Vanno le bottiglie! Ma dai! Ma ci sono due! Due per loro! Che è assai buono! Lo bevo più io che non loro! Vanno fanno a cuore di brì! Dai! Ehi! Ehi! Io non le tieno! Sì! Malle! Malle! Io faccio la plastica! La pasta vede già da una parte! L'umica da una pasta! Il secco da una pasta! i video giustamente sto facendo qui perché su non li posso fare da quando qua non va più a trovare mia mano il mio padre sta un po' depresso perché esattamente due mesi e una settimana che lo dobbiamo fare che non andiamo a trovare mia mano ma stiamo scherzando però il motore che sta bene 5 secondi contati 1, 2, 3, 4, 5 oggi dobbiamo salutare delle bravissime persone un saluto speciale, abbiamo detto al grandissimo Tony Doc, alla Doc poi salutiamo il manager Alessandro Doc e poi un saluto speciale grandissimo a Luigi Rilievi e Francesco Vichiello io vi ringrazio come sempre cotto e culo mangiato termina qui e allora ci vediamo ovviamente stasera per video cena alla Goc alla Goc come voi signori e signore ragazzi e ragazze amici amiche fratelli e sorelle e bambini soprattutto buon posti commenti di giornata a stasera DAI DAI A presto ょ il pranzo è finito andiamo in pace